Amici sono con Stefano Sorrentino, portiere del Chievo il quale da qualche tempo sceglie il messaggio più bello di quelli ricevuti su Twitter dai tifosi e lo stampa sui guanti. Guanti che indosserà nella partita seguente. Guanti poi messi all'asta e ricavato devoluto alla Ollus insuperabili. Ma pochi sanno che prima di diventare un grande portiere Sorrentino è stato un grande attaccante. Sì è vero, ero così forte come attaccante che la mia specialità migliore era quella di buttarmi per terra e allora il mister ha deciso di schiararmi in porta. Beh questa è già una storia bellissima, complimenti a maggior ragione perché poi il portiere ha fatto delle grandi cose. Il distinto del bomber non passa con gli anni.